Trecime Experience benedetta da una giornata di sole che ha permesso, dopo due anni di condizioni meteo avverse e percorsi alternativi, di far correre i 450 concorrenti sui tracciati originali della Cadini Sky Race, 20 km con 1600 metri di dislivello positivo, e della Misurina Sky Marathon, 42 km e 3000 metri di dislivello positivo, 15 le nazioni rappresentate nella corsa con atleti arrivati per l'occasione nel paese delle Trecime di Lavaredo, successo anche per la Cadini Kids Race che quest'anno si è svolta a Misurina per dare ai più piccoli l'emozione di arrivare sotto lo stesso traguardo dei grandi. La Cadini Sky Race ha visto trionfare Tiziano Moia con 2 ore e 13 minuti segnati sul cronometro mentre le 2 ore e 30 di fatica hanno consacrato Martina De Silvestro, vincitrice tra le donne. Daniel Jung ha dominato in 4 ore e 58 la Misurina Sky Marathon, a vincere la gara in rosa Martina a Val Massoi in 5 ore e 17 minuti. Le Dolomiti sono un posto bellissimo e con quel tempo come oggi cosa vuoi in più, perfetti trails, il meteo perfetto così. Sì, dai, è andato bene la gara, ai primi 15 km sono andato con uno dell'Almania, con Sammy Grill, siamo andati bene e poi ho provato di attaccare in discesa, in una discesa tecnica e ho visto subito che sono un po' più veloce dagli altri. Gare belle come queste, ce ne sono poche, il panorama qua è fantastico, quindi non si fa quasi neanche fatica se ci si guarda un pochettino intorno. Io ho fatto gara di testa, subito non ho guardato indietro e stavo bene, sono contentissima e niente, è bello ritornare tra le montagne praticamente di casa a gareggiare e sono molto felice. Grazie.